Padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore. Processo a Francesco può sembrare un titolo forte, non lo è affatto. È la verità della storia del Santo di Assisi e drammaticamente anche la verità legata alle vicende del pontificato di Papa Francesco. I due grandi attori, protagonisti, imputati, San Francesco e Papa Francesco hanno un filo rosso che li accomuna. La risposta a tanta aggressività, il silenzio, straordinaria risposta di un mondo che cerca chiasso e trova invece persone che testimoniano il Vangelo.